Allora, ci siamo, 3, 2, 1, here we go! Edimburgo 40, Zebre 14 Hola brutal, cari amici e cari amici del canale IBCZ10, ben ritrovati, ben ritrovati, appassionati ed appassionati da pallovale subito a dare uno sguardo a quello che è successo a 180 secondi dalla fine del match di Edimburgo un IVE Stadium, a mio avviso, non ho sentito niente durante la cronaca, direi 6.300 spettatori la butto lì quindi un bel colpo d'occhio alle spalle del maestoso Marefield e allora siamo qui a commentare una partita delle Zebre che punteggio pesante che rispecchia come sempre quello che si è visto in campo perché i punteggi rispecchiano sempre quello che si è visto in campo mi viene da dire che le Zebre sono come l'Italia di qualche tempo fa giocano bene 50, 60, 65 minuti e poi subiscono nell'ultimo quarto d'ora nell'ultimo 20 minuti che sono quelli che fanno la differenza nelle partite di rugby vi ricorderete la nuova zeranda sotto di 14 con il Galles che vince di non so quanto a 10 dalla fine ecco, l'ultimo quarto è quello decisivo e le Zebre nell'ultimo quarto ultimamente ci avevano abituato bene all'inizio stagione ultimamente, come stavo dicendo si perdono sempre e si squagliano fisicamente, purtroppo fisicamente partita iniziata in maniera spettacolare siamo stati avanti nel punteggio fino al trentesimo con una splendida meta di Piuscentelli che l'arbitro ci ha dato con le mani a due piedi per annullarcela però la decisione on field era try quindi non l'ha potuto fare diversamente arbitro che da quel momento e so che non è un bel discorso perché è una cosa abbastanza, diciamo, calcistica da quel momento ci ha messo un po' nel merino allora, nella fase di gioco della mischia è inutile star lì a lamentarci quello è però il buon Breakspear esordiente Ben Breakspear ci ha messo nel merino ci ha tirato fuori due calci di punizione in attacco sotto i pali nella prima parte di gioco che, nì, vabbè, comunque sì, l'arbitro è l'arbitro l'arbitro, come si dice, c'è per tutti quanti però quella meta di Piuscentelli secondo me gli ha un pochino punto nell'orgoglio gli scozzesi e lui ci ha un pochino messo nel merino scherzi a parte hanno fatto una bella meta a Piuscentelli erano riusciti a risollevare una situazione un po' difficoltosa con la meta di Ashman e la trasformazione di Ili allora, qui dico subito che Ili mio personalissimo man of the match perché intanto è vero Ashman ha vinto il premio per la stampa inglese per le sue due metri due metri che hanno dato l'abrido alla partita hanno dato via le danze delle marcature scozzesi però il piede di Ili ha fatto tanto, tanto, tanto male alle zebre tutte le volte buttava quel cavolo di pallone sulla linea dei 5 metri e tutte le volte dal di lì nasceva una situazione veramente sgradevole barra difficoltosa da difendere 40-14 40-14 il punteggio che ha preso il via il largo negli ultimi 4 minuti negli ultimi 4 minuti sono stati subite le zebre hanno subito 14 punti quindi fino a quel momento 26-14 c'era ancora voglia barra possibilità di fare la marcatura per andare sotto bonus in realtà poi la marcatura l'ha fatta gli scozzesi con Velakot che era indemoniato salito dalla panchina veramente ha dato una svolta alla partita differenze differenze intanto chiaramente una differenza notevole nel roster di Edimburgo tantissimi giocatori della nazionale tantissimi giocatori che dovevano essere in nazionale non ci sono stati come Amish Watson comunque una roster di primissimo di primissimo piano e la differenza fisica evidente barra notevole barra imbarazzante perché comunque sia bisogna essere io capisco che le zebre sono una franchisia di sviluppo con tanti giovani tutto quello che si vuole però il fisico di questo gioco è fondamentale oggi abbiamo pagato clamorosamente Lazio e poi c'è una differenza di obiettivi sicuramente l'obiettivo di Edimburgo era fare 5 metri e 4 metri per i 5 punti e scavalcare Treviso che domani va a Durban si sa cosa che si sa cosa rimane fuori e gli Storm si hanno vinto anche loro a Newport questa sera quindi l'obiettivo di Edimburgo era fare 5 punti le zebre stanno montando tutto quanto sul match di venerdì prossimo con gli Scarlett quindi c'era anche una differenza di obiettivi di focus Edimburgo cosa ha messo in più ha messo in più sul piatto della bilanza come detto una gran fisicità proprio fisico chili e muscoli tutto quello che può rientrare in questa parola ha messo sul piatto della bilanza una mischia che ha ha sempre messo in difficoltà gli avanti gli avanti di Parma della francese di Parma però da metà partita in poi non è che solo le ha messo in difficoltà le ha proprio disintegrati calci di punizione a nastro cosa veramente devastante ecco moralmente per un giocatore cosa ha messo sul piatto della bilanza ha messo sul piatto della bilanza un piede fantastico come detto prima di di Ely cosa ha messo sul piatto della bilanza ha messo una rimessa laterale che quasi perfetta solo uno della banda di Matti come Zambonin poteva provare a rubarla e c'è riuscito per una volta però la rimessa di di Edimburgo è stata abbastanza diciamo così eufemismo devastante per noi l'esempio di conto con cosa hanno cosa hanno potuto opporre a questo strapotere di Edimburgo hanno messo tanta voglia di fare nei primi minuti tante multifase un po' monotono il canavaccio delle zebre sempre con la palla all'apertura che lancia un giallo un po' da un punto di incontro in mezzo al campo un canavaccio abbastanza monotono poi qualche volta si è fatto qualcosa di diverso e ha messo una difesa abbastanza solida per una sessantina di minuti tanta voglia di fare e ci siamo fermati qui meta di Precentelli è una splendida intuizione personale difesa di Edimburgo che sale in maniera barazzante barazzante il termine esatto con una voragine in mezzo al campo che uno collegava di Precentelli ha ringraziato e non è stata una casualità perché poi ha fatto anche Montemauri e la seconda meta in realtà è stata costruita con una bella serie di penetrazioni a palla all'argo Trulla ha trovato ancora la marcatura quarta marcatura stesonale per Ghiacopino Trulla cosa che non ha funzionato non ha funzionato per Edimburgo sicuramente una parte che non mi è piaciuta è stata la mancanza di rispetto per la squadra delle Zebre perché sono stati veramente supponenti per tutto il tempo hanno rischiato di non portarsi a casa il bonus per un bel po' perché giocavano come hanno detto i cronisti con la spocchia di quelli vabbè intanto vinciamo gli è mancato un certo senso il gioco loro hanno Van der Merve a largo non sono mai riusciti a metterlo in moto una volta che si è trovato a lavoro ha trovato una splendida francesina non ricordo di Ferrari forse non mi ricordo di chi però diciamo che il gioco non è stato proprio fluido brillante si è basato molto su qualche carica che per carità riusciva benissimo insomma non è stato un gioco piacevole come ci hanno abituato altre squadre insomma l'Einster o Glasgow stessa situazione stesse partite hanno giocato una partita molto più bella con molto più rispetto c'era molta arroganza anche Mania Doss Amish Walson cose non c'era proprio bisogno il divario era talmente ampio che proprio fare anche i grossi e bullizzare gli avversari è proprio una è stato proprio un di più che non c'entrava niente Mata ha fatto due o tre penetrazioni secondo me se avessi donato la palla Mata avrebbe fatto un mazzo tanto alla difesa però questo è appunto la mancanza mi viene da dire la mancanza di gioco da parte di di Cosa è mancata alle zebre il meno delle zebre è stata sicuramente mancano chili sicuramente e davanti la mischia ha sofferto tanto barra troppo non ci sono stati cambi adeguati in quella situazione mentre nei tre quarti quando è uscito Dominguez è entrato Garcia è entrato Mazza c'è stato una sorta di up del rating della linea dei tre quarti il cambio nella mischia purtroppo non ha portato giovamento anzi ha solo quasi non dico peggiorato perché non è stato peggiorare hanno subito anche loro in maniera devastante la mischia di Edimburgo e adesso è tutto fortunatamente anche per i drivers vale lo stesso discorso fatto per Le Zeb le partite finiscono all'ottantesimo gli storm sanno dilagato negli ultimi minuti mi pare di aver visto si hanno fatto le mette finali al 72 75 79 anche loro stavano lì nel punteggio fino al 60 erano sotto addirittura però fortunatamente gli storm ha fatto fortunatamente per le zebre ma non per Treviso hanno fatto quello che dovevano fare e adesso le zebre si giocano con gli scarlet venerdì prossimo questo big match dove in teoria potrebbe esserci un doppio sorpasso da parte della franchisia di Parma speriamo che regali una coccia roselli questa gioia invece in questo momento Treviso è scivolata fuori dalle 8 perché appunto Adimburgo l'ha scavalcata Storm è sempre su in largo Treviso che domani va a Durban e si sperava che dovevano mettersi in campo una spada un po' sbarazzina e invece no li ha messi tutti i primi 5 sono Springbok proprio nazionale titolare e questo è dunque venerdì sera le zebre sono finite si può uscire darci per una birretta mi raccomando rugby z10 like dislike follow campanella se volete ascoltare quello che dico spotify idem sono usciti i miei resoconti del 1888 l'inghilterra fa le frigne con voi non ci socca perché vi volete fare le regole da soli andatevene a vedere youtube tiktok telegram tiktok e instagram li conoscete sempre rugby z10 date vedere mettete like followate se vi piace commentate che ci confrontiamo ditemi appunto la vostra sulla partita delle zebre ora io vi saluto hola brudel